Senti, tutti ti vogliono conoscere, incontrare, eccetera, e so che tu l'apprezzi moltissimo. Facciamo entrare prima la nostra prossima ospite, così la presenti tu. Come no? La chiami tu Angelina Mango? Dai. La chiamiamo. Angelina Mango! Buonasera. Ciao. 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 Ornella Manoni, Angelina Mango. Che onore, che onore essere presa un po' qua. Ciao Angelina. Sei felice? Molto. Di avere vinto? Sì. Adesso devi darci dentro perché sai, dopo una vittoria, boom, bisogna andare più forti, più forti. Io ci sono, ciao. Ciao. Tu sei? Scusate, ciao. Bentornata. Grazie dell'indica. Tanto felice che tu sia qua. Grazie mille. Veramente ti auguro il bene possibile. Grazie. Senti, ma lei ha una presenza scenica forte, eh? E lei è molto brava. Poi quando aveva saputo che vinceva ha fatto una specie di... sembrava un terviso. Giravi come una patta. Sono impazzita. E dà la gioia. Sì. E lo credo. Senti, però adesso il più è da fare, eh, Ornella? Come? Dico il più è da fare. È il più è da fare. Adesso comincia il lavoro, vero? Non vedo l'ora. E sei già su, sei già sul pezzo. Non preoccuparti. Allora, tanti auguri. Grazie. E io ti guarderò perché io sarò morta. No, ancora, no, ma è ancora. Ma invitiamo al concerto anche Angelina il 28 aprile. Angelina, viene. 27 aprile. 27. E tu, tutti si chiederanno, Madonna, Madonna, ce la fa. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Allora, adesso facciamo così. Prepariamo il palco per Angelina. Mando la pubblicità. C'è la pubblicità? Ah, mangiamo la pubblicità. Ti prepariamo il palco, salutiamo Ornella e poi dopo ti ascoltiamo. E poi chiacchieriamo un po'. Angelina Mango, Ornella Vanoni. Grazie. 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 Grazie a tutti.